ora 1.42 partiamo per andare a letto una figata al monte carbo e noi potremmo decidere di andare anche a imperi a passare dalle cuoche andiamo subito in cima andiamo a staccarsi il tetto direttamente buco l'ho visto prima e andiamo andiamo e 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